Sicuramente non vi aspettavate un video sul mio canale così presto, però sono uscite delle notizie parecchio importanti su Jiren vs Goku, quindi non potevo non portarvele. Questo video infatti probabilmente non andrà a durare nemmeno troppo e giusto un video di aggiornamento, è uscita quella che sembra essere la sinossi dell'episodio numero 110 e 109, ovvero lo speciale. Jiren, il guerriero più potente dell'universo 11, entra in azione. Il suo potere supera quello di tutti gli altri e anche Goku in Super Saiyan Blue, combinato con il Kaioken, non può nulla contro di lui. Tutti gli attacchi di Goku sono stati respinti e finisce al tappeto, improvvisamente un chi mai visto prima sembra uscire dal suo corpo. Questo ci fa capire come comunque Goku dal nulla arriverà alla nuova trasformazione e potrà sicuramente tenere a testa a Jiren, però c'è un però grande contro una casa, ovvero sono usciti anche quelli che sembrano essere i titoli provvisori, sottolineo la parola provvisorio, degli episodi a venire e sembra che lo scontro tra Jiren e Goku verrà interrotto. Infatti l'episodio numero 111 si andrà a intitolare Hit vs Jiren. Ripeto è provvisorio come titolo ma questo ci fa intuire come probabilmente lo scontro tra Jiren e Goku verrà interrotto da Hit, il che è plausibile perché Jiren e Goku sono i due più forti, presumo, e il loro scontro sarà quello decisivo del torneo. Quindi ci sta pienamente che al momento venga interrotto. Inoltre Jiren e contro Hit è sicuramente uno scontro degno di essere visto. L'episodio 112 si va però a intitolare la determinazione di Vegeta, si presume che lo scontro di Jiren venga nuovamente interrotto, questa volta da Vegeta, che andrà a scontrarsi contro Hit, il che mi fa pensare che lo scorso video che vi consiglio di vedere su Hit, in realtà ci abbiamo preso parecchio perché avevamo detto che a combattere contro Hit sarebbero stati o Jiren o Vegeta e a quanto pare probabilmente entrambi. Infine abbiamo l'episodio numero 113 che si chiama La frenesia dei Saiyan per la battaglia. Ricordo sempre che è un titolo provvisorio però questo titolo mi dà tanto una situazione di casino totale, una situazione in cui i Saiyan ormai sono scatenati e cominciano a lottare con tutti. Quindi secondo me questo episodio numero 113 sarà davvero incredibile. Noto con piacere che già dai titoli provvisori sembra che dallo speciale le puntate si cominceranno a velocizzare davvero davvero tanto. Quindi questo torneo del potere sta per entrare davvero nel vivo dell'azione. Spero che il video vi sia piaciuto, che l'aggiornamento comunque vi sia tornato utile. Se è così lasciate un bel mi piace, un commento fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, bella! Grazie! Grazie!